Salve! Anche questa settimana le offerte del mercatino di Carbatella. Ma dov'è Federico? Federico? Ahà! Eccomi! Il nascondiglio perfetto! A soli 241 euro! Una stanchezza ragazzi! Sgabbello culturale portatile! A partire da 1 euro e 20! Sì! Questa settimana, solo per i più furbi, due piedi nella stessa scarpa! A soli 123 euro! Solo per ieri e ancora per ieri! Andiamo Fuffi? Dai! Su! Andiamo! Non fare disobbediente Fuffi! Andiamo! Cane cacciapuoti in ceramica! A soli 389 euro! Ma dimmi il lavoratore! A troppi euro!